A Lanciano c'è l'accordo tra Enrico D'Amico, Udc-Ncd, secondo al primo turno con il 37,87%, e Tonia Paolucci, terza, con il 22,67%, ex Udc e Forza Italia. Entrambi rappresentanza di coalizioni di centrodestra, tra le cui fila ci sono anche i rappresentanti di Casa Pound. Il sindaco uscente, Mario Pupillo, del Partito Democratico, che al primo turno è giunto in testa con il 39,47%, corre da solo. Ci apparentiamo con i cittadini che vogliono contribuire a cambiare in meglio la nostra città, ha dichiarato Pupillo, con loro e basta. A Roseto degli Abruzzi non ci saranno apparentamenti, ma le sei liste civiche della coalizione, hashtag Amoroseto, guidata da Rosaria Ciancaione, sosterranno al ballottaggio la candidatura di Sabatino Di Girolamo. Lavoreremo con i candidati delle nostre liste a sostegno e a fianco di Di Sabatino Di Girolamo, anche a seguito dell'accordo politico programmatico raggiunto insieme, che ci ha visto convergere su molti obiettivi e punti del programma, e quanto dichiarano i rappresentanti delle liste della coalizione, hashtag Amoroseto. Corre da solo quindi il sindaco uscente, Enio Pavone, con coerenza e linearità, si legge nella nota di Pavone, proseguiamo sulla strada intrapresa nel 2011. A Sulmona il candidato sindaco, Bruno Di Masci, si allea con Forza Italia. Alla base dell'accordo, la convergenza delle otto liste civiche che sostengono Di Masci, su obiettivi comuni proposti anche nel programma di mandato di Elisabetta Bianchi, candidato sindaco al primo turno. Anna Maria Casini, candidata sindaco con la coalizione Noi per Sulmona, sull'ufficialità dell'apparentamento elettorale tra Forza Italia e il Partito Democratico, definisce l'apparentamento una alchimia da fantapolitica. Nessun apparentamento ufficiale avvasto per i due candidati al ballottaggio, Francesco Menna e Massimo Desiati, ma resta in piedi la possibilità di un accordo elettorale. Dopo le avanza al Movimento 5 Stelle, infatti, cui Menna aveva offerto la presidenza del Consiglio Comunale, dal centro-sinistra si apre un canale di dialogo con Edmondo Laudanzi, il candidato civico del Nuovo Faro e Rinascita Vastese, che per la giornata di domani potrebbe portare a un accordo elettorale.